Enjoy people! Credo di non essermi mai presentata per bene su questo canale Credo di non aver mai detto chi sono io davvero Bene, sono nata il 10 maggio 2001 e vivo in un paese molto piccolo, ma non troppo, vicino a Torino, in Piemonte Di carattere sono molto timida, se conosco qualcuno faccio davvero fatica ad aprirmi Ma quando faccio bene la sua conoscenza nessuno mi ferma più Forse per questo non ho molti amici, ma come dico sempre io, meglio pochi ma buoni Posso contare sempre su di loro e ci vogliamo tantissimo bene Credo che se dovessi conoscermi per la prima volta mi vedrei come una ragazza piccolina con i capelli corti e molto dolce Amo viaggiare, scoprire nuovi posti, fare nuove esperienze, andare al mare, in montagna, nelle città Magari con la mia migliore amica fare shopping Amo fotografare qualsiasi cosa che mi sembra bello e interessante La maggior parte delle volte, infatti, fotografo alle persone E ditemi voi se non c'è qualcosa di più interessante Amo giocare, scherzare, ridere delle cose più stupide, divertirmi, correre, saltare E non mi importa se sembra ancora una bambina Perché in fondo se queste cose non le faccio ora, quando le faccio? E per ultima cosa, sono innamorata dell'amore L'amore di qualsiasi genere Verso una canzone, verso un film, verso una serie tv Verso mia madre, verso mio padre Verso i miei fratelli Verso le mie migliori amiche Verso i miei amici O verso una persona davvero speciale Perché vi dico tutto ciò? Che cosa c'entra con il titolo di questo video? C'è scritto presentazione del canale e vi parlo di me Semplice, perché questa sono io Perché questo canale sono io Tutto ciò che vi ho appena detto lo troverete qui, in questo posto Questo posto è tutto mio Dove vi racconterò, dimostrerò, confesserò anche qualcosa di me e della mia vita Qualsiasi cosa mi passa in me la mente e ve la racconterò E spero davvero che lo apprezzate molto Perché YouTube, anche se non sembra È una delle cose più importanti per me Dove sono per stessa e posso sfogarmi Grazie se supportirete la mia passione e quello che ho da dire Vostra Irene Grazie a tutti Grazie a tutti